Siamo qui oggi con Canon EOS R50. Tantissimi di voi hanno saputo che la sto testando e mi hanno chiesto facci sapere come si comporta, facci sapere se può essere la fotocamera adatta alle mie esigenze. Nel video di oggi faremo un test di qualità d'immagine andando a stressare la macchina mettendola a lavorare con valori ISO molto alti. In questo modo ci renderemo conto di come si comporta e se può essere adatta per le vostre esigenze. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia a livello professionale da diversi anni. In questo momento sto testando un po' di macchine che mi sono state mandate dalla casa e in particolare in questo momento ci stiamo occupando di EOS R50. La cosa che mi preme farvi vedere in questo video è come si comporta la macchina in un contesto normale ma anche quando viene messa sotto stress. Andremo a vedere come si comporta la macchina con dei valori ISO prima normali e poi via via sempre più alti. Io andrò a mostrarvi il video non editato chiaramente in maniera tale che possiate farvi un'idea di com'è la resa effettiva. A differenza della ripresa solita che vedete questa ripresa è editata pesantemente editata anche perché io sto girando in log quindi quello che vedete di solito io l'ho editato ma invece le riprese che faremo con questa macchina ve le farò vedere crude in maniera tale che riusciate a rendervi conto della qualità effettiva. Prima di cominciare ricordo a tutti quanti quelli che non l'avessero ancora fatto di iscriversi al canale cliccando il bottone qui sotto. Vi ricordo che tutti quelli che non lo faranno avranno un'altissima probabilità di avere delle fotografie mosse nel prossimo shooting che andranno a fare. Io se fossi in voi non rischierei. Faccio subito una precisazione e vi dico che sto registrando questo video contemporaneamente quindi la mia camera principale e la mia R50 stanno registrando contemporaneamente per cui nel momento in cui io registro non conosco gli esiti. Io non riesco a capire come sta performando a livello di ISO la macchina mentre registro questo video quindi non posso commentare contestualmente perché lo scoprirò anch'io dopo. Per questo motivo durante il test ad alti ISO vi metterò dei test in sovraimpressione per segnalarvi dove secondo me la macchina si sta ancora comportando bene e dove invece la macchina comincia a non essere più in grado di restituirci un file pulito. Molto bene partiamo da questa ripresa. Il valore che state vedendo in questo momento è un bellissimo ISO 100 quindi qui non abbiamo grossi problemi. La macchina ovviamente performa al suo meglio perché la stiamo lasciando bella tranquilla. Adesso vediamo che cosa succede se andiamo ad aumentare. Andiamo a 200 e andiamo a compensare. Ok io vado di volta in volta a compensare. In questo modo dovremo avere esattamente la stessa esposizione. Ovviamente questo è un incremento che non dovrebbe creare alcun problema alla nostra macchina per cui adesso andiamo a ISO 400 e nuovamente andiamo a compensare. Sto compensando unicamente col diaframma perché siccome sono un videomaker voglio tenere la velocità di shutter corretta quindi sto compensando solamente col diaframma. Prima o poi non mi sarà più possibile e dovrò compensare in altri modi ma tanto questo è un test degli ISO quindi sono sicuro che mi perdonerete. Saliamo a ISO 800 e nuovamente andiamo a compensare. Ok siamo a f11 da questo momento in poi compenserò in altri modi. Non voglio spingermi oltre il valore di f11 perché potrei introdurre poi dalla diffrazione quindi la qualità d'immagine potrebbe risultarne falsata e non è quello che vogliamo. Per cui a questo punto saliamo a ISO 1600 e io adesso devo trovare un modo di regolare questa esposizione. Quello che sto provando a fare è abbassare l'intensità delle luci in maniera tale da andare a compensare. Adesso diventerà sempre più difficile perché saliamo ancora e siamo a ISO 3200 e andiamo nuovamente a compensare. Ok abbiamo compensato più o meno perché a questo punto non è più tanto scientifico sto abbassando le luci ma sto andando a braccio. E siamo arrivati alla fatidica soglia di ISO 6400 e nuovamente andiamo a compensare. A questo punto non so quanto riuscite a rendervene conto ma le luci sono veramente molto basse. È quasi come se non ci fossero più. A questo punto passiamo a ISO 12008 e qui sono veramente in difficoltà ad andare a compensare quindi credo che a questo punto manometterò i valori di shutter perché non posso abbassare ulteriormente le luci ho finito lo spazio. Anche se è una ripresa statica non amo farlo ma in questo caso sono convinto che sia la cosa migliore tanto è solo un test. Proviamo a salire ulteriormente. Siamo all'espansione ISO 16000 e nuovamente vado a compensare. A questo punto vedremo vedremo la qualità di immagini a monitor perché io qui dal display della macchina non riesco bene a rendermi conto di quello che sta succedendo. Quindi le valutazioni le aspetto da voi nei commenti nel momento in cui vedrete il video perché io dal piccolo display della macchina non riesco a vedere quanto rumore c'è. A questo punto saliamo ulteriormente andiamo a ISO 20000 e nuovamente vado a compensare. Io a monitor piccolino della macchina rumore non ne vedo però so benissimo che questa è una valutazione che va fatta dopo a schermo. Proviamo a salire ulteriormente siamo a ISO 25600 e torno a compensare. 25600 è un valore bello alto non c'è che dire. A questo punto vediamo se si può salire ancora. No siamo arrivati a fine corsa perdonatemi non mi ricordavo qual era il valore massimo raggiungibile da questa macchina. Quindi siamo arrivati al valore ISO espanso di 25600. Stiamo scattando a un 250esimo di shutter f11. Sono dei valori veramente estremi quindi per una macchina come questa arrivare a scattare in un contesto del genere già personalmente lo considero un piccolo traguardo perché con macchine della scorsa generazione non sarebbe stato possibile. Ovviamente faremo poi insieme le considerazioni sull'effettiva qualità d'immagine. Stiamo girando in 4K e stiamo girando a 2397 frame al secondo. Adesso io ho provato ad avvicinarmi al display perché da una distanza media non percepisco niente ma se mi avvicino anche a display della macchina lo vedo che c'è del rumore ovviamente. Però tenete conto che stiamo lavorando su una scena che praticamente è buia. Le luci le ho non dico spente ma quasi. Stanno facendo un'emissione minima. Siamo a livello di poco più di una candela. Quindi stiamo lavorando in condizioni di illuminazione veramente precaria. Io trovo che il risultato sia buono nel senso che riusciamo a farlo. Con dei valori estremi come questi comunque riusciamo a portarci a casa all'immagine. Dobbiamo anche considerare che gli ultimi valori che stiamo utilizzando sono delle espansioni. Quindi stiamo ulteriormente stressando la nostra fotocamera. Non sono valori standard nativi ma sono delle espansioni che sono lì per emergenza. Sono lì casomai ci dovessero servire. Il contesto in cui la sto usando io oggi è veramente estremo perché f11 un 250esimo in un contesto come questo è un contesto assurdo. Cioè in una situazione di questo tipo io posso capire scattare a f5.6 è un 125esimo. Anche un cinquantesimo visto che è uno still life. Arrivare a valori così estremi per perdere luce apposta è evidente che l'ho fatto di proposito per poter alzare l'iso. Quindi è una situazione in cui di solito non ci si trova secondo me e per fortuna. Nella maggior parte dei casi secondo me con dei valori iso normali si riesce a fare qualcosa di carino con questa macchina tenendo anche conto che io adesso sto lavorando a stabilizzatore. Spento. Non mi serve. La macchina è posata giù quindi non ho bisogno dello stabilizzatore ma noi abbiamo lo stabilizzatore abbiamo le ottiche stabilizzate abbiamo tutti dei sistemi che ci agevolano nel momento in cui vogliamo fare delle foto con poca luce. Attenzione è pur sempre vero io sono il primo a dire non fidatevi dello stabilizzatore perché lo stabilizzatore va bene per cose ferme ma se fotografiamo una persona che si muove e anche se hai lo stabilizzatore lo sfondo viene bene la persona viene mossa se abbiamo allungato i tempi. Però in questo caso se fossi stato a mano libera io avrei potuto aumentare i tempi e scattare probabilmente anche a un trentesimo di secondo con stabilizzatore senza problemi di micromosso. Quindi a me non è mai successo di aver scattare con valori iso così estremi non mi è veramente mai successo. Questo test è solamente per farvi vedere le capacità della macchina che a questo punto commentiamo insieme nei box qui sotto vi lascio la parola come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate. Io stesso scoprirò che cosa ne penso montando il video perché al momento non ho avuto modo veramente di capirlo quindi ne parleremo dopo e vi ricordo di scrivervi perché sicuramente risponderò a qualcuna delle vostre domande o dei vostri interventi con degli shorts verticali quindi continueremo sposteremo la discussione e continueremo a parlare della resa iso di questa macchina. Molti di voi mi hanno chiesto come si comporta e se può essere la macchina giusta per loro. Secondo me questo video è un pochettino in risposta a questa richiesta. A questo punto però io ho veramente esaurito il tempo a mia disposizione. Tempo che vi ringrazio come sempre di aver trascorso insieme a me. Io e Canon EOS R50 vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.